Buonasera, mettiamo un filtro per fare tutto più bello. Ciao. Ciao. Come stai, Laura? Tu come stai? Tutto a posto, Laura. Che si dice? Tutto a posto, Laura. Che si dice? Tutto bene. Ho mostrato un po' meglio. Sei un po' meglio? Eh, meno male. Ma dove abiti? Io? A Pomigliano. Conosci Pomigliano? Sì, sì, lo so molto bene. Ah, lo conosci molto bene? Non vieni mai a Napoli? Eh, Laura. Se ti invito io, non vieni. Eh, Laura. Mi sono sposato pure io. Come il ragazzo di prima. Eh, allora, amore. Cosa vuoi? Però poi se ti fai la barba. Pronto. 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 L'hai provato. Che ti fai seccato nel culo. L'hai provato. Perché è il santo. Ti fai messo in mucca. Ciao. Ma sei il santo. Ma sei la mia saccata oggi, Gaby. L'hai orecchio. Basta. Ragazzi, non puoi andare a parlare così. Che lei è troppo simbatico e poi non faccio così. E Gaby, quando noi canulliamo, ma stasera sta proprio carica. Adesso mi hai chiamato e chiamato, ma quando ti chiesto. Ragazzi, piano piano. No, eh. E ora ti rispondono. Uo, io non ho parlato più. Perché poi io sto chiamando le persone, ma non le conosco. Che ve lo voglio dire. Ma accettiamo un pochino tutti. Laura. Eh, dimmi. Tutto bene? Tutto bene? Eh. Dimmi, perché... Ma ti fai vedere? Alzati un po'. Alzati. Non ti guardare, per favore. Ma ci sono? No, ma fammi vedere qualcosa. Laura, chi somiglia? Fammi vedere qualcosa, dai. No, è piccolino. È piccolino. Quanti anni hai? 16. No, piccolino. Se sei bambino, sei amore. Non mi serve. Non mi serve. È piccolino e già? L'ho già provato. Fatti la barba. Eh? Fatti la barba. Fatti la barba. Non l'ho capito, amore. Fatti la barba. Eh? Tu sei ricchiato che ti piace questo moccangulo. Dai, prova. Tutto tutto. 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 Allora, vediamo. Che stai nesalto nella piazza? Non ci lo stai. Non ci lo stai. Non ci lo stai. Non ci lo stai. Non ci ho mai detto. Non ci ho mai detto. Buonasera. Ciao, Vittorio. Ciao, Pammola. Come stai? Ciao, Laura. Ciao a posto. Tutto bene, Vittorio. Come stai? Sì. Tutto bene, grazie. Che state mangiando? Ma dove abiti? Stambo a casa mia. Abito nel borgo, Laura. Dove abiti tu? Tu me l'hai visto? Come? Ci siamo sempre visti a Santa Maria della Fede. Adesso non mi ricordo l'improvviso. Sono un po' confusa. Ti ho anche corteggiata. Ma c'avevi il cappello in testa? Aspetta. Eh bravo. C'avevi il cappello. Sta a posto? Tutto bene. Mi hai riconosciuto adesso? Sì, ma mi hai fatto venire in mente. Ah. Hai visto? Cosa c'è adesso? Adesso niente. guardavo un po' di televisione. Poi ho visto che stavi lì e non ho potuto fare a meno di connettermi. Sì, lo so. Ti ha accoggiuto raggi per te. Dove? Dimmi cosa c'è? No, niente. Ti volevo salutare. Tutto a posto? Dico. Tutto a posto, sì. Lui c'ha anche un negozio Redfield. Dove ce l'hai? Però maschile. Io vado con… No, no. Compra anche io le cose compro da lui. Ho tutte le cose firmate, Palm Angel, Essace… Non c'è io qualcosa femminile? No, femminile no. Lo sai Laura che voglio fare? Voglio organizzare una vetrina vivente di sabato che ti metto a te in vetrina, però tutta vestita bella da donna con un abito importante e poi metto a bambolina vestito da uomo, diciamo, faccio lo sposo e la sposa e si rivolta al corso un bel giorno. Ma scusi perché vuoi fare? Ah, ti vuoi fare una cosa Laura. Poi dopo? Poi dopo? Che facciamo? E poi dopo andiamo a cena io e te. Però io sono scontato. Va bene. In camerino? Poi ti devo fare in basso. In camerino? In camerino non mi devi portare? Eh, ti devo fare in basso e mi devi fare massurare un po' il vestito se è stretto. Ti devi togliere il cartellino da vicino. Eh, cartellino. Comunque te lo faccio indossare io l'abito, è ovvio, no? Ah, va bene. Ah, allora ci vuoi fare la vetrina da lui. Che l'ho brutto, veramente. Non è vero, non l'ho detto io. Ma no, a te lo sta dicendo. Eh, non so, credo che lo sai, no? Vita, vita. La specie è bloccata. Sì, del... Come una puttana. Mi dà, mi dà, mi dà, mi dà, mi dà, mi dà, mi dà. Amore, tutto bene? Come stai? Amore, ti ricordi di me? Calmi. Calmi, sto a posto. Sto bene. Tu come stai? Ma sono un po' di presa, sono meglio, te so. Senti, ma come devo fare per non farti fare la scema con gli altri? Perché sono geloso, te l'ho detto già l'altro. Ti senti? Vai Laura, sta parlando. Sta parlando Laura. Dimmi, dimmi, dimmi. Perché fai la scema con gli altri? Io sono geloso di te. Come devo fare? A me è una scherza se non posso fare niente di più. Ma ti ricordi di me? Ho già ti sei dimenticato. Sì, ragazzo è l'altra sera. Sì, ragazzo è l'altra sera comunque. Aspettando ancora che tu mi dici, vieni a prendere. Allora, tu stai a prendere e vieni a prendere. Un po' di presa. A prendere, un po' di presa, ne ho chiesto. Non mi dico tu. Non sto a prendere in casa. Adesso, tu stai il profumo, ragazzi, non ti stai. Noi sono i ragazzi, grazie. No, sì, sì, è vero. No, mamma. Ok. Hai visto? Ti piace? Ti piace? Bellino. Ecco, puoi fare questo. Bellino, ma no. Vediamo il prossimo chi è? Mi amo. Eh, vai, va. Che c'è? Che vuoi? Ma vuoi o no? Vieni. No, ma non siamo mai venuti con te i piedi, siamo mai venuti con noi. No, non siamo venuti con te. No, non siamo venuti con te, i bambini con te. Buoni. Allora già venuti, io non lo potrei fare, già fare un servizio. Farei? Già fare un servizio, devo fare tre dei tuoi. Ah no? Devo fare un servizio importante. Ma tutto a posto? Come sta? Tutto bene, grazie Sbarbo, grazie. Ma perché te lo giubbi? Che non mori in fritto, bene, bene. Ma sento freddo, te so. Perché sta tutto aperto, fa freddo qua. Sì? Sì. Eh, bambola, perché nascerai solo poco tu? Noi siamo amici. Noi siamo amiche, noi siamo amiche, te so. Ma come sei deprovato, come sei deprovato, mamma mia. Perché? Perché dici ciò? Perché lo so io, perché a te ti piace il culo. Il culo? Sì, mi piace il culo. No, il culo. Come ti piace? Allora… No, ma ora parli… No, tu parli… Il sedere come ti piace? Il sedere? E come ti piace? Bombato o piccolino? Sempre bombato. Tu come vuoi dire tu? Io ce l'ho piccolamente buono. Ma ha depilato? Sì. Con la decrescita? No, amore. Eh, no… Tu ma… Vai! Bravo! Oricchio! 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 Ma lo sta dentro? Che sta mia qua? Amore, sono qui, mi vuoi? Ti dovescardo quanto vuoi desideri? Sto aspettando, cuore mia! Ci vediamo dopo. Svizz into the world. Un bacio, ciao… Ciao! Ciao. Ciao, ciao! 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 le gomme. Ma perché è vero che mi fai trovare scena? Ah, è vero. Stanno staccato. Stanno staccato. Stanno staccato, eh. Ma come se ne si stanno staccato? Stanno staccato, ma io. Ma che vuoi non cercare se ti vuoi come vuoi spunnetto bello? Eh, tu mi fai staccato. Ma veramente ti fatti. Quindi tu confermi che Svald l'accappato al centro. Ciao. Ciao. Tutto a posto, tesoro? Tutto a posto. Ciao, Enzo. Ciao, amore. Che sei nascendo. Enzo, ma volevo fare i complimenti a questa tua amica. Sì, vai, vai. Dimmi, dimmi, amore. Laura, comunque sei bellissimo. Grazie, amo. Mamma mia. Enzo, ma quando me la presenti? Eh, qualche sera la porto a Caserta, perché lui è il mio amico di Caserta. Tu conosci Caserta? Sì, sì, lo conosco bene. Ti piace, Giuseppe? E' un bel ragazzo. Che lo faresti? La spesa a casa. Ti piace? Un cappegno, un cappegno. Un cappegno, un cappegno. Un cappegno, un cappegno. Se bisogna fare la maglia, non senti caldo. No, la maglia mi mettono poco scuro. Se la devo togliere io? Se me la togli tu, c'è più piacere. Vabbè, dai. Solo come lo puoi fare questa cosa? Dai, ti sconsumo. No, solo in privato, in separate sede. Allora, quando siamo in privato, che vengo a casa tua, allora mi fai vedere tutto? Eh, cioè, io mi spogli tutto o niente. A metà non mi piace. Vabbè, allora tutto il conto con te. Bravo. Va bene. Sì, amore mio. Eh, va bene. Allora vi saluto, Enzo. Ci vediamo presto, allora. Ciao, Giuseppe. Laura, che labbra che hai, mamma mia. Grazie, amore. Sono bravissimo. Grazie, amore. Sono bravissimo. Grazie, amore. Grazie. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ci stava dando pure una compagnia mia. Aurelia. Come si chiama? Milu. Milu. Tutta una falsa, questo che sei... Eh, oggi ce la fatti. Ci uscesi. Ha morito così brutto. No. Che si chiama? Che tu sei lì? Oricchio! 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 Mi piace, ho messo. No! 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 Brava l'amore! Che l'ha data da poco! Uh! Brava! Brava, Laura! Brava! Brava! Sei tutti noi, Laura! La vicina e Paola è che lei si difenda. È che siamo noi vicini, perciò che le persone più sicure. Eh! Eh! No! 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 Ma non ti dici! Ma perché è il pisello, Laura? Sì, sono andata con il pisello! Sì, sì, dammi, dammi. Eh! Bello vuole fare, ci faccio il barco! No! 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 Grazie! Grazie!